Carissimi, eccomi qui per salutarvi, per augurarvi tutto il bene di questo mondo, ma soprattutto per augurarvi il bene più grande che viene in dono a noi da Gesù, dalla sua grazia, dal suo essere amico nostro, fratello nostro, speranza nostra, guida nostra, anzi, come lui stesso dice nel Vangelo, via verità e vita nostra. Diverse volte ho ricevuto da parte vostra una richiesta. Don Francesco, ci insegni a fare un buon esame di coscienza per capire se piacciamo a Gesù, se siamo nella sua volontà, nella sua grazia, nella sua amicizia? E' da un po' di giorni che ci penso e allora mi è venuto in mente questo. Facciamo un esame di coscienza con il nostro corpo. Che cosa significa? Ecco, prendiamo il nostro corpo, no? Il nostro corpo ha una testa, a sua volta la testa ha degli occhi, una bocca, delle orecchie, un naso, poi le mani, le braccia, le gambe, i piedi, il centro della nostra vita. E analizziamo ogni parte del nostro corpo e vediamo se con ogni parte del nostro corpo noi viviamo in grazia di Dio oppure no. Se viviamo in peccato oppure no. Se siamo mancanti oppure no. Partiamo da questa parte, che è la sede di tutto, il cervello, no? La parte principale della testa, dove si annidano i pensieri. Quante volte io ho detto, raccontando la mia storia, che i nostri veri mali si annidano qui, nei pensieri che noi facciamo. Io, per esempio, nella vita mi ero convinto di non essere utile a nessuno. Lo pensavo alla mia testa e lo credeva tutta la mia persona. E quindi, per questo, vivevo nell'infelicità, nella tristezza. Un pensiero sbagliato ci provoca un terremoto nella nostra vita e ci porta tristezza, smarrimento, confusione, delusione. E tutto questo è fonte di peccato. Quando invece i pensieri sono sereni, quando i pensieri si lasciano illuminare dalla parola di Dio, e allora sono nella volontà del Signore. Ecco, quando noi pensiamo male dell'altro, magari a volte anche senza aver sentito la parte dell'altro, senza aver appurato la verità, e allora noi commettiamo peccato, perché non si pensa male dell'altro, a prescindere. Quando con i pensieri, per esempio, noi desideriamo delle cose che non possiamo avere, e allora è peccato quando con i pensieri ci, come si diceva una volta, facciamo dei film. È peccato perché quei film non sono sempre la realtà. E allora custodisci i tuoi pensieri e vivrai nella pace. Abbi pensieri ordinati e vivrai nella pace. Togli i pensieri disordinati e vivrai nella pace. Chiediti con i miei pensieri. Pecco? Scendiamo. Se voi ci fate caso, sul nostro viso, sul nostro volto, ci sono quattro dei cinque sensi di cui l'uomo dispone. Vista, udito, gusto, olfatto. E poi l'altro qual è? Il tatto. Vedete il volto, no? Questo volto deve assomigliare il più possibile al volto di Cristo. Cristo con gli occhi faceva il bene. Con l'udito ascoltava le necessità. Con la bocca faceva il bene. E anche con il suo naso, quando sentiva puzza di zolfo, cioè puzza di demonio, metteva in guardia. E noi, che il nostro volto deve assomigliare al volto di Cristo, come viviamo con i nostri sensi? Gli occhi. Quanto male vedono i nostri occhi? Quanti spettacoli indecenti? Quante foto indecenti? Quanto male vediamo fare e stiamo in silenzio? Non diciamo una parola di correzione. Non diciamo una parola di Vangelo. Ecco, i miei occhi sono puliti. Molte volte si dice che il male è negli occhi di chi guarda. Io avevo un amico, che poi si è rivelato non amico, che vedeva sempre il male in altre persone. Ma poi si è scoperto che questo male non era negli altri. E cosa faceva? Metteva contro gli uni gli altri. Ma il mare era in sé stesso, nei suoi occhi sporchi. I miei occhi sono puliti o sono sporchi? Cosa dice il Vangelo? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre il tuo c'è la trave? La bocca. Questo è uno strumento di morte, micidiale. Con la bocca possiamo fare tanto bene. Pensate a chi, per esempio, parla a favore di una persona bisognosa, a chi parla bene di un altro. Ma quando la bocca parla male, giudica, condanna, fa pettegolezzi, calunni e dice menzogne. Uh, quanto guai fa la bocca. E tu come usi la bocca? La usi solo per il bene? La usi solo per parlare bene? Oppure la usi per distruggere, per criticare, per avere sempre di che dire, per bestemmiare. Con la bocca si bestemmia. È triste. Per infangare, per calunniare, per dire il male, per raccontare il male. Se ti raccontano una cosa, tienila per te. Non creare guerre. Stai zitto. Se ti dicono qualcosa che potrebbe creare altro male, chiudi la bocca. Ecco tu come ti comporti con la tua bocca. E le orecchie? Le orecchie quando sentono cose brutte, cosa fanno? Sanno rinunciare al male? Oppure, ecco, quando la tentazione entra nell'orecchio, si cade? Fai così, fai così, non ti preoccupare che è peccato. Tu lo senti e che fai? Dici no, non è così. Quando il demonio nel deserto tenta Gesù e dice, se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. è vero che le pietre diventano pane. Gesù lo sente questo, ma lui rifiuta, non fa entrare oltre che l'orecchio quella parola, non la fa scendere nel cuore, non la fa andare nei pensieri. Sta scritto anche, non di solo pane vivrà l'uomo. E poi il male si può fare con questo, con il cuore. Il cuore è la sede di tutti i sentimenti. E non c'è cosa più brutta che il cuore possa fare è che chiudersi, odiare, non voler perdonare, essere di pietra e con il cuore provare i sentimenti negativi. Cura il tuo cuore e sarai nella pace. Allontana dal tuo cuore le tentazioni e sarai nella pace. Tieni lontano dal tuo cuore l'odio, il rancore, la vendetta e sarai nella pace. Non permettere che il desiderio di vendetta entri nel tuo cuore e sarai nella pace. E tu? Hai un cuore di pietra o un cuore di carne? Hai un cuore di ghiaccio o un cuore tenero? Hai un cuore d'acciaio o un cuore che si scioglie, che si commuove? Riesci a perdonare? E poi scendiamo giù al centro della nostra vita dove si risiedono i piaceri. Come vivi la tua sessualità? Come vivi il tuo essere uomo, il tuo essere donna, il tuo essere marito, il tuo essere moglie, il tuo essere fidanzato, il tuo essere fidanzata? Riesci a mantenere la castità? Riesci ad essere fedele? O cadi nell'adulterio, negli atti impuri? E poi scendi nelle gambe, le tue gambe, percorrono strade buone o strade cattive, strade disoneste, strade di ingiustizia, strade di furti, strade di male. Cammina sempre per il bene, vai sulla retta via, non deviare né a destra né a sinistra, la tua strada ce l'hai, perché la tua strada, la tracciata Gesù, segui le sue orme e non andrai nell'inferno. E allora ecco, vedi, puoi fare un buon esame di coscienza ogni giorno, soprattutto chiedendoti come uso la mia vita, come uso il mio corpo, come uso me stesso. Sono luce di Dio o sono tenebra? E ora preghiamo perché il Signore ci dia e ti dia la forza di essere sempre un cristiano santo e un santo cristiano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gira questo video ai tuoi amici perché anche loro possano imparare a fare un buon esame di coscienza. Buon cammino. Tu sei molto più bello di quanto possa pensare perché Dio ti ha fatto bello. Dio ti ha fatto bella. E allora resta in questa bellezza. Non permettere che il tuo corpo si macchi di cose brutte. Ciao.